Difesa ad oltranza di chi difende ad oltranza. Il problema è sempre il messaggio che vi viene passato perché la difesa ad oltranza in alcune situazioni può anche essere una soluzione. Quando diventa un problema, quando è l'unica soluzione? Venivamo dal discorso di poco fa sulla Roma e sul suo cambiamento tattico e di approccio alle partite. L'Inter ha giocato in casa fino ad oggi diverse partite, diciamo quasi una dozzina, poco più di una decina. Sapete chi ha fatto un tiro nello specchio della porta e non particolarmente pericoloso? Dusan Vlaovic ieri. E sapete quale altra squadra ha fatto un tiro in porta a San Siro contro l'Inter? La Roma di Mourinho, dopo la Juve di Allegri. Non è un tema di giocatori. Quando vi dicono contro l'Inter non si può fare altro che difendere, se no sei morto. Non è vero. È una balla, è una boutade, vi prendono in giro. E siccome lo hanno dimostrato il Genova che ha fatto quattro tiri, il Bologna che ha fatto dei tiri, il Bologna che ha fatto due a due e uno a due in campionato di Coppa Italia. Quindi quattro gol in due partite contro l'Inter. Il Bologna non ha giocatori più forti della Roma e della Juventus. Non ce ne ha nessuno i giocatori più forti della Roma e della Juventus, delle squadre che hanno fatto gol o punti, tipo il Sassuolo a San Siro. Semplicemente un problema di mentalità, di come si attacca la partita, di come si aggredisce la partita. Se tu tutto il tempo aspetti che l'Inter, con la sua qualità, col suo gioco, con le sue idee, con i suoi calciatori, ti stia a bullizzare. E l'Inter ti bullizza. Se provi a fare qualcosa, accorci, pressi, riparti. Sei pericoloso? Sicuramente le cose cambiano. Non possiamo pensare che sia casuale che due delle squadre che hanno fatto meno tiri in porta contro l'Inter, siano Juventus e Roma per una coincidenza. Ma semplicemente perché la mentalità di chi li allena è una mentalità da provinciale. Senza voglia di far male, ma con la voglia di fare 0-0. E siccome l'Inter è più forte, ti fa autogol di Gatti e ti fa gol to Ram. In entrambi i casi perdi 1-0 e dici, però 1-0 siamo stati in partita. No, l'Inter ha dominato con la Roma e ha dominato con la Juve. Non c'è stata partita. È finita 1-0 per delle circostanze casuali. Ma l'Inter è stata dominante e Juventus e Roma sono state rinunciatarie. Squadre molto meno forti di Juventus e Roma come organico hanno fatto figure largamente migliori contro l'Inter, che è una squadra forte, ma non è il Barcellona di Guardiola o il Milan di Sacchi o, non lo so, l'Inter di Herrera. Non è questa squadra ingiocabile. È giocabile se stai dietro, nella tua metà a campo, in 50, a Cava Cecio sul portiere, non ottieni nessun risultato. Questo è sicuro né a livello di punti né a livello di mentalità. La stagione della Juventus resta eccellente e superiore probabilmente al proprio potenziale, ma questa settimana è da horror. La settimana della Juventus che parte con Juve-Empoli e Fiorentina-Inter post-Supercoppa senza Barella e Cialanoglu. In questa giornata precedente siamo 52 Juve-51 Inter. Si va 54-53 e nello scontro diretto 57-53. Erano otto giorni in cui la Juve poteva quasi scappare e sta scappando l'Inter. E la Juve deve fare un bel mea culpa di quanto è successo nell'ultima settimana, perché tu devi vincere con l'Empoli, devi sperare che l'Inter non vinca a Firenze e di sicuro non devi perdere lo scontro diretto. Sono successe tutta questa serie di cose con errori di strategia nella partita contro l'Empoli, con errori di atteggiamento nella partita contro l'Inter. Quindi la Juve si deve mangiare le mani di quello che ha fatto negli ultimi otto giorni.